No, la scelta. E quindi dal... Ma qua, qui non è stata riuscita. Eh? Sono 150 milioni. Sono 150 milioni. Sono 150 milioni. Allora, siamo pronti. Tutti la ricorsa... Sono nate... Sono rimaste... ...la mancanza. Ma queste, secondo me, ha nube tossico di Cerno qui. Eh? Lo ricordate se sta? No, dite che mancanza d'acqua. L'acqua. E a provincia di Napoli che l'acqua c'è sta. Come mai? Tutti i setti. 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 No, è una malattia però... È una malattia che proviene dalla nube tossica di Cerno qui. Quando scoppiava c'era la donna. È passata. È passata. È passata. È passata. Quattro, cinquecento. Facciamo automaticamente però... L'ultima ora... Già... Lo teniamo tutti quanti che... Chi fuma, chi non fuma... ... Comunque alla campagna... Noi... Noi teniamo... Noi... ... ...le mimosa. Noi hai teniamo da parecchi anni le mimosa. Per fare che cosa? Ah... Ci... Ah... Noi... 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 L'acqua... Scendono... È proprio nell'anima. È... Cioè... È... Il melanzane... Noi... Why, se... Ero... Inbalpere la cortina... Che... È... Parola... Se... Ci... ung... Rui... ... Where... ...